esplosioni e incendi sono avvenuti vicino alla città russa di belgorod le autorità locali dicono che un deposito di munizioni è in fiamme e i residenti riportano di aver sentito diverse esplosioni funzionari di kursk e boronessa hanno segnalato l'attivazione dei sistemi di difesa aerea si dice che qualcosa sia stato esploso nel cielo vicino all'aeroporto militare di baltimore elicotteri combattenti il 76 trasporto militare 222 m3 295 bombardieri strategici sono stati visti in immagini satellitari di questo aeroporto tuttavia questo aeroporto si a circa 200 chilometri dalla frontiera ucraina e non vi sono armi nelle forze armate ucraine in grado di colpire a questa distanza c'è stato anche un'esplosione in un deposito di petrolio a brunswick situato a 100 chilometri dalla frontiera ucraina i servizi di emergenza locali dicono che l'incendio è scoppiato intorno alle due del mattino e ci sono due fonti di accensione una nel serbatoio di petrolio le informazioni sulla seconda fonte non sono state divulgate ma gli utenti dei social media hanno segnalato che un arsenale di artiglieria situato nelle vicinanze era in fiamme l'immagine mostra la parte distrutta della ferrovia che sembra portare allo stesso arsenale è molto probabile che la strada fosse utilizzata per trasportare attrezzature e armi per la guerra contro l'ucraina la pipeline di petrolio internazionale passa esattamente attraverso brunsk le esplosioni e gli incendi sono avvenuti in russia diverse volte ad aprile tra cui un incendio in un deposito di petrolio nella città di belgrado a 40 chilometri dall'ucraina le truppe del cremlino che hanno invaso l'ucraina provenivano da questa zona i russi hanno detto che il deposito di petrolio è stato colpito da razzi da parte di elicotteri ucraini ma il governo ufficiale di kiev non ha confermato o negato questa informazione gli istituti di ricerca della città di tver sono stati distrutti da un incendio con il tetto che si è ripiegato e tutti i documenti e i disegni che sono stati distrutti questa istituzione ha partecipato allo sviluppo di un sistema di schermatura per gli aeromobili su 27 e 2160 così come i sistemi di missili antiaerei s 400 e il sistema di missili iskander questo è lo stesso tipo di armi da cui sono state bombardate le città ucraine negli ultimi due mesi c'è stato anche un incendio nella piccola città di koralov nella regione di mosca conosciuta come la capitale spaziale della russia le autorità inizialmente non hanno riferito dell'incendio ma i locali potevano vedere la colonna di fumo che si alzava dalla zona industriale una colonna di fumo simile è stata vista nella città di kineshma dove è scoppiato un incendio alla fabbrica chimica demiter la più grande in russia e una delle più grandi in europa orientale inoltre sono scoppiati incendi boschivi in siberia che di solito vengono gestiti dalle forze militari e aeree tuttavia coloro che in precedenza hanno spento tali incendi sono stati inviati a combattere in ucraina le cause esatte della maggior parte degli incendi non sono ancora note e le autorità del cremlino hanno parlato di attacchi dall'ucraina di guerriglieri misteriosi di incidenti e di maneggio negligente di materiali infiammabili nel mese di aprile la flotta del mar nero della federazione russa ha tenuto una parata di navi nella sevastopol ucraina occupata e ha deciso di lanciare un razzo durante la dimostrazione il lancio è stato un fallimento il razzo ha mancato di poco la nave di tiro ma avrebbe potuto colpire la folla putin dovrebbe fingere che i sabotatori ucraini siano saliti a bordo e abbiano riprogrammato il missile le navi russe hanno la tendenza autodistruggersi ad esempio la fregata modernizzata marshal kaposhnikov ha esibito il lancio del missile calibro che spesso colpisce il territorio ucraino la nave ha effettuato un lancio e il missile è andato su bene ma per qualche motivo ha iniziato a girare in aria e è caduto vicino alla nave immaginate l'equipaggio che guarda attentamente il suo volo probabilmente come il soldato che ha girato il video il militare russo stava addestrando per lanciare missili dal complesso s 300 ma dopo il lancio il missile ha volato solo 10 metri in alto prima che il motore non riuscisse a partire causando il ritorno del missile in russia questi casi accadono abbastanza spesso vi invece di colpire bersagli aerei nascosti i russi stanno sparando missili contro le loro installazioni mentre gli ingegneri escogiteranno nuove armi cosa possono fare se l'istituto di ricerca viene distrutto nessun paese ha bisogno di armi che mutilano e uccidono i propri soldati queste storie non possono essere sentite dalle fonti ufficiali russe invece i propagandisti sparano storie sulle armi russe che non hanno analoghi nel mondo se pensi che non lo diranno ascolta questo commentatore forse riuscirà a convincerti le nazioni straniere hanno sentito parlare del carro armato armata una macchina da combattimento di nuova generazione che i russi vantano da diversi anni ma per qualche motivo non è ancora in servizio nell'esercito russo i russi muoiono negli esercizi militari e distruggono le loro città e infrastrutture tale desiderio di suicidarsi potrebbe sorprendere una persona normale ma se ne sono abituati da tempo al contrario sono fieri del loro modo di vita e del loro presidente che è stato ripetutamente avvertito dai politici mondiali di non attaccare l'ucreina poiché ciò distruggerebbe il suo stesso paese tuttavia non ha ascoltato e ora sta distruggendo il suo stesso paese mentre le persone comuni urlano spettando il suo stupimento frattano spettando l'uono spettando il suo modo spettando il suo modo confettando 2 spettando i